benvenuti a questo incontro di presentazione della serie io prima di tutto voglio ringraziare la casa editrice carocci che mi ha dato la fiducia per organizzare questa impresa e soprattutto antonella la bianca che con la quale mi coordino per questo progetto inoltre vorrei anche ringraziare le persone che fanno parte del comitato scientifico della serie che sono elena d'uso dell'università di padova e cristiana de santis dell'università di bologna e lena bortolotti dell'università di trieste e ogni progetto è stato sottoposto anche alla loro attenzione e con loro abbiamo discusso alcuni contenuti gli obiettivi della serie sono rapidamente sono questi cioè noi vorremmo offrire degli strumenti che siano sia di auto formazione per gli insegnanti informazione e sia per accompagnare i docenti in classe e quindi all'interno di ogni volume e oggi vedrete questi primi tre ci sarà una rapida parte teorica e poi ci sono proprio delle attività concrete che si possono fare nelle classi ci sono alcuni presupposti comuni che danno un po il filo rosso della serie l'unità diciamo di questa serie e sono appunto il riferimento al fatto che la classe viene considerata come una comunità e riferimento alla didattica di tipo laboratoriale questi sono diciamo i due cardini e al di là di questo ogni ogni volume presenterà degli approcci che possono essere anche eterogeni come vedrete più avanti i volumi presentati oggi si dedicano a diverse a diverse competenze ma vedrete che poi ci saranno anche diversi approcci teorici e un altro punto in comune invece è l'attenzione alla compresenza dei diversi livelli di competenza all'interno della classe quindi non troverete indicazione il più delle volte della classe alla quale si rivolge l'attività classe prima seconda terza questo solo quando è reso evidente ad esempio dal fatto che i bambini ancora non sanno scrivere ma in linea di massima parleremo di livelli a primo livello secondo livello che tipo di attività si possono fare basta vi posso solo ancora annunciare che in lavorazione c'è un libro ancora sulla didattica della scrittura che speriamo potrà uscire magari il prossimo autunno e altre idee che abbiamo che abbiamo in corso e quindi vi lascio alla presentazione delle delle care autrici che ringrazio di aver accettato la proposta e di aver svolto con noi questo lavoro in maniera sempre molto seria e non diciamo ritraendosi di fronte ad impegni anche piuttosto onerosi passo la parola a monica annunziata che inizierà con la sua presentazione grazie buonasera condivido il mio schermo grazie buonasera io presento primi passi nella lettura nella scrittura prevenire errori difficoltà nella scuola primaria questo libro si intende offrire una bussola per accompagnare gli insegnanti in quella parte del curriculum di italiano in classe prima che si occupa dei primi passi nell'acquisizione del codice primi passi che la ricerca più recente ha considerato come i più importanti nella costruzione di competenze di lettura e scrittura di qualità si tratta quindi di dedicarsi alle fondamentali l'introduzione e l'avvio di ciascun capitolo riportano i riferimenti teorici che vanno a suffragare le scelte metodologiche esposte l'obiettivo del libro non vuole essere quello di fornire solo indicazioni operative ma piuttosto di promuovere una didattica consapevole infatti anche nelle sezioni rivolte alla alle attività alle illustrazioni dell'attività si troveranno sempre delle chiare indicazioni riguardo ai al perché delle azioni che vengono proposte proprio per rendere consapevole l'insegnante sulle finalità di qualsiasi scelta didattica nell'ottica della prevenzione di errori difficoltà infatti il questo volume è nato e pensato per prevenire errori e difficoltà l'impostazione metodologica e fonosillabica e come vedremo meglio in seguito con un approccio multimodale l'obiettivo primario di questo libro è stato quello di coniugare la necessità in questo ambito di una pedagogia organica e strutturata graduale come la ricerca più recente ci suggerisce con l'esigenza del coinvolgimento attivo del bambino infatti parallelamente a un approccio che vede il coinvolgimento dei sensi e del motorio quindi del corporeo del bambino ci saranno anche indicazioni precise per esempio riguardo all'ordine di presentazione dei grafimi o in merito alla progressione da rispettare riguardo alle strutture fonotattiche secondo una crescente difficoltà questo perché si ritiene che una organicità nelle proposte porti a prevenire errori e difficoltà come per esempio quegli errori tipici nella fase ortografica si fa riferimento ad una classificazione tipologica degli errori di tre soldi e pornoldi di scambi di grafemi o inversioni omissioni o aggiunta di grafemi in strutture sillabiche nelle varie strutture sillabiche affrontate organicità e gradualità però non devono indurre ad una lentezza nel procedere infatti il testo non parla di tempi poiché nelle nostre classi convivono diversi livelli ogni bambino ha i propri tempi che devono essere rispettati e la parola chiave per affrontare per gestire questi diversi livelli compresenti in questo libro è la personalizzazione infatti pervade la convenzione in questo libro che vi è un legame tra motivazione ad apprendere e senso di auto efficacia degli stimoli troppo facili ad un bambino per esempio con alto potenziale che già ha avviato una sua concettualizzazione della lingua scritta potrebbero essere controproducenti e viceversa degli stimoli troppo difficili per un bambino in difficoltà indura sconforto e rinuncia l'intenzione di questo libro è proprio di personalizzare le proposte per ciascuno la chiave per gestire la presenza di diversi livelli delle classi risiede in un setting organizzativo capace di offrire una personalizzazione e infatti nelle sezioni titolate organizzazioni materiali che precedono le attività all'illustrazione dell'attività si troveranno delle chiare indicazioni riguardo alla predisposizione dell'ambiente di apprendimento e in merito alla personalizzazione del materiale e delle richieste sul singolo sul gruppo e distinti per livelli avanzato intermedio e base. I materiali a cui si fa riferimento sono materiali che verranno costruiti dagli stessi bambini nel corso dell'attività via via in un approccio laboratoriale che viene definito non a caso nel volume come officina di sillabe e parole. Vedremo quindi nello stesso momento nelle nostre classi bambini che affrontano in laboratori multisensoriali la stabilizzazione della conversione fonemagrafema e allo stesso tempo bambini che compongono parole con le sillabe o con le letterine mobili e bambini ad alto potenziale anche impostazioni individuali che saranno stimolati alla scrittura spontanea e alla lettura personale. I punti cardine del percorso sono la competenza metafonologica, l'analisi visiva e l'approccio multimodale. In questo percorso vedremo un bambino che apprende attraverso un approccio che attribuisce un ruolo primario alla metafonologia, all'analisi visiva e al potenziale sensoriale. La competenza metafonologica sappiamo essere con l'abilità di percepire la struttura sonora a livello uditivo delle parole e dei fonemi. Il percorso propone attività metafonologiche e fonologiche sia in una fase preliminare alla presentazione del codice scritto sia in interazione con le proposte didattiche sulla conversione fonema-grafema, sull'analisi e la sintesi, quindi per tutto il percorso. Parallelamente avremo questo approccio multimodale, le immagini che vi presento sono eloquenti e si trovano all'interno del volume. Si tratta di coinvolgere la sfera motoria e multisensoriale del bambino in tutte le fasi del percorso. L'analisi visiva è quell'abilità necessaria per l'interiorizzazione della forma del grafema. Si tratta proprio di offrire al bambino delle attività che vadano ad imprimere in memoria le caratteristiche di ciascuna lettera, quindi di costituenti grafici, proprio per stabilizzare questa interiorizzazione. Un esempio tipico di questo approccio è la costruzione da parte del bambino dei cartelli murali. I bambini in attività laboratoriali saranno messi nella condizione di scegliere l'immagine gancio a cui fa riferimento per il cartello murale. Come si può vedere dai primi cartelli in alto, dai primi tre cartelli in alto, si tratta di attivare sia il livello fonologico che quello visivo. Infatti la lettera fa riferimento all'iniziale di quella parola target, ma anche la forma della lettera, va ad inserirsi nella forma dell'immagine. Questo, sia per i grafemi che per le stringhe ortografiche, ha lo scopo di rendere familiare quella forma o, nel caso delle stringhe ortografiche, quello schema di lettere, attivando appunto in parallelo sia l'analisi visiva che l'elaborazione fonologica. Il cartello murale finale che scaturisce da questo lavoro avrà una forte pregnanza per i bambini, perché coinvolti attivamente. L'esempio che vi riporto della stringhe ortografica su questo cartello murale illustra chiaramente come questo percorso si discosta dalle prassi didattiche più diffuse che utilizzano eserciziari, schede didattiche fotocopiabili. In questo caso si tratta di offrire delle attività laboratoriali proprio sull'analisi visiva, oltre all'elaborazione fonologica, che vadano proprio a lavorare sul tentativo di imprimere in memoria la stringa ortografica vista nella sua globalità. Infatti potete vedere come i bambini avevano cercato di inserire il primo grafema della stringa ortografica all'interno della curva del gomito dell'ognomo, così come il secondo grafema che segue i bottoni della giubba e il terzo, in questo caso la vocale, che segue il cocomero sottobraccio dell'ognomo. Questa attività fa sì che questo disegno diventi un mediatore visivo che va ad imprimere come immagine mentale la stringa ortografica e ne facilita la memorizzazione. Si tratta di favorire l'immagazzinamento in memoria di un lessico ortografico. L'essico ortografico è una terminologia che ci ha... Monica, ancora solo un minuto. Va bene, Stanislas De Aen, questo neuroscienziata a cui questo testo è debitore. Infatti De Aen ha visualizzato il circuito della lettura spiegandoci che la modalità con cui si sollecita la neuroplasticità delle prime aree cerebrali coinvolte ha ricadute sulla raffinatezza con cui si attivano tutti i processi successivi e questo è un forte richiamo anche alla pedagogia di Maria Montessori che è stata l'intensità antesignana di un dialogo fra scienza ed educazione per cui questo percorso vede come pilastri l'uso dei sensi, il fare, la manipolazione di materiale concreto. Concludo solo con una nota veloce sulla valutazione. In questo testo non manca il tema della valutazione. Nei materiali online troviamo... trovate delle griglie osservative e all'interno del percorso delle indicazioni in merito ai feedback che il docente può fornire agli alunni. Si tratta di recuperare il vero scopo della valutazione, vale a dire quello formativo. Ringrazio per l'attenzione e lascio la parola alle colleghe. Grazie Monica. Adesso la parola passa a Margherita Ghetti. Sì, condivido anche lo termo. Intanto approfitto di ringraziare Cristiana De Santis di nuovo che ci ha raggiunte. Grazie. Buonasera, grazie. Allora, buonasera a tutti e a tutti. Io presento le parole in gioco e come dice il sottotitolo sono dei percorsi di ludolinguistica, quindi la proposta di attività di ludolinguistica per la scuola primaria per tutti i cinque gli anni. Parto con una breve carrellata, diciamo, sull'organizzazione del libro che vede una premessa di istruzioni per l'uso, cioè un po' come consultare il libro che è strutturato secondo sei capitoli, di cui il primo è un'introduzione per parole chiave o meglio per concetti chiave che sono fondamentali e propedeutici, diciamo, anche per l'immersione nel percorso di ludolinguistica che viene affrontato in seguito. Il percorso si snoda attraverso i seguenti cinque capitoli in senso progressivo, sia come difficoltà e sia come unità di base, diciamo, a cui le singole attività fanno riferimento, perché le prime attività che vengono proposte hanno come unità di base la lettera, intesa come grafeme e fonema, poi le sillabe e fino ad arrivare alla testualità. Entrando più nel dettaglio, nel primo capitolo, come dicevo, l'introduzione per parole chiave o concetti chiave, abbiamo nove concetti che sono fondamentali nell'articolazione del volume, ludolinguistica, gioco, scrittura, metodologia laboratoriale e comunità di apprendimento, che sono concetti che condivido ovviamente con tutta la serie, e democrazia, plurilinguismo, suono e pensiero divergente. Non potendoli, diciamo, affrontare tutti, possiamo però vedere come sono strutturati i singoli capitoli delle attività. Allora, ogni capitolo è suddiviso ovviamente in paragrafi e ogni paragrafo è dedicato principalmente, ma non solo, a un'attività che viene prima presentata, la strutturazione infatti del paragrafo vede la presentazione del percorso, poi viene ampliata, cioè vengono dati suggerimenti per ampliare l'attività o per, diciamo, intraprendere percorsi interdisciplinari e poi ogni paragrafo è arricchito da un percorso plurilingue. Cioè, ulteriori suggerimenti per utilizzare quelle stesse attività o con altre lingue o in parallelo con l'inglese, che comunque è una lingua straniera, assolutamente, insomma, la più studiata nelle nostre scuole. Anche questa è una particolarità, la prossima, che condivido con tutta la collana, cioè gli esercizi e le attività proposte non vengono suddivise per classi, ma contraddistinte per livello di difficoltà, di uno, di due, di tre, proprio perché non viene concepita la classe come un insieme, un gruppo, appunto, eterogeneo. Da ultimo, segnalare che i materiali online servono sia per ulteriori ampliamenti, che non hanno trovato posto all'interno del volume, nello scritto, e sia per visionare la corrispondenza tra le attività proposte e gli obiettivi e le competenze delle indicazioni nazionali, perché il percorso di ludolinguistica è un percorso attraverso cui, diciamo, raggiungere, ovviamente, gli stessi obiettivi e le stesse competenze di quello che potremmo definire un percorso più tradizionale. Entrando nel dettaglio, il capitolo 2 presenta per lo più giochi con grafemi e fonemi come unità di base, tra cui metagrammi, cambi di lettera, anagrammi, come potete vedere. Sono esercizi che possono essere proposti già a partire dalla prima classe e che possono però al contempo essere proposti anche nelle classi terminali, proprio perché ogni capitolo prevede una parte di esercizio e una parte più legata alla testualità. Voglio dire che possiamo comporre, per esempio, con le parole emerse nelle attività di metagramma e logogrifo, delle riscritture di fiabe che la faranno poi da padrone nel sesto e ultimo capitolo, come vedremo. Scusate, devo tornare indietro un attimo perché non riesco... Scusatemi, ho dovuto mettere in piccolo perché non riuscivo a tornare alla slide precedente. Nel terzo capitolo è dedicato alle sillabe, comunità di base e quindi sono tutti esercizi e attività che partono dalle sillabe, dalle colanne sillabiche, agli scarti, le sciarade, le zeppe e anche qui possiamo pensare a proporre queste attività come semplici esercizi o come esercizi propedeutici alla scrittura di testi che possono essere sia in prosa, i testi balbuzienti li abbiamo chiamati laddove l'ultima sillaba di una parola è uguale alla sillaba iniziale della parola seguente fino ad arrivare ai testi poetici tipo haiku. Nel capitolo 4 invece si affrontano, diciamo, gli alfabeti e con questo si intende tutte le lettere che abbiamo a disposizione. Mentre esercizi dei primi due capitoli possono essere intrapresi anche quando non sono ancora conosciuti tutti i grafemi e i fonemi del nostro alfabeto, nel capitolo 4 la competenza deve essere un po' più estesa e radicata, sebbene un esercizio di cui faccio l'esempio qui come l'abecedario possa essere considerato come un esercizio utile per il ripasso ortografico-morfologico o come un abecedario tematico a modo di elenco, quindi possa essere utilizzato fin dalle prime classi e possa poi essere ripreso come esercizio di sintesi per creare, per esempio, delle sinossi di libri, racconti, film visti insieme in classe. Gli ultimi due capitoli sono sicuramente più complessi, in questo senso anche la progressione di tutto il volume, il capitolo 5 si focalizza sulla particolarità della lingua come suono e quindi partendo dall'analisi della formazione delle parole, le etimologie, le etimologie diciamo reali e le etimologie fantastiche, la creazione di neologismi, le poesie ad eco e non-sense e anche qui la possibilità di creare a partire dalle stesse attività dei testi, testi con frasi fatte, testi con prestiti linguistici o con i proverbi. Il PGM è un acronimo per proverbi geneticamente modificati, è una delle attività proposte. Nell'ultimo capitolo, il capitolo 6, è dedicato completamente alle riscritture ed è focalizzato sulle fiabe che è stato volutamente scelto di dedicare un capitolo alle fiabe classiche che formano parte della programmazione della didattica dell'italiano in primaria. Questi paragrafi con dei titoli un po' fantasiosi fanno riferimento a un tipo di attività che possiamo descrivere brevemente. Con fiabe disidratate si intendono tutti quegli eserciti che ci consentono di effettuare un'estrema sintesi delle fiabe, quindi in questo senso disidratarle. Con fiabe riscaldate facciamo riferimento a tutta una serie di attività alla maniera di che no del celeberimo esercizi di stile, quindi le riscritture classiche e attraverso diversi registri linguistici, per esempio. Con fiabe matematiche presentiamo delle riscritture attraverso meccanismi di sostituzione a regola fissa, attraverso i quali si insegna anche ad utilizzare il dizionario in maniera diciamo molto efficace e divertente. Con le fiabe divorate invece si affronta diciamo il tema della cucina all'interno delle fiabe e delle riscritture anche dei testi regolativi che spesso vengono vissuti come insomma magari in maniera abbastanza noiosa e non all'interno della programmazione. Con fiabe alterate partiamo dalla manipolazione dei titoli per creare delle sinossi alternative diciamo e con le fiabe mascherate riprendiamo un po' il discorso della lingua come suono affrontato nel capitolo 5 perché ci avviciniamo alla metasemantica, al linguaggio metasemantico e alle lingue inventate in genere o misceliamo la lingua e la lingua inventata. Allora per arrivare verso la conclusione ho tratto dei brevi esempi di qualche pagina del libro. Qui abbiamo un esempio di progressione dell'attività. Vi ho detto che il libro si snoda a livello progressivo sia come difficoltà ma anche all'interno nella spiegazione degli esercizi stessi. La parte di presentazione del percorso presenta non solo le regole diciamo le norme dell'esercizio proposto ma anche l'andamento che si propone in classe per l'attività, le possibili obiezioni, domande e risposte dell'insegnante. Quindi si vengono ricreate diciamo delle ipotetiche situazioni di classe. Margherita un minuto ancora grazie. Sì ho finito proprio una slide. Un altro esempio di percorsi interdisciplinari. Qui vediamo una poesia ad eco che viene creata sulla base di un modello e che viene diciamo riscritta, rimodulata seguendo il programma di storia in una terza primaria. E poi per esempio un altro tipo di esercizio è la creazione di neologismi e anche qui un percorso plurilingue cioè la creazione di neologismi innestando le competenze in inglese sul mondo animale con l'esercizio appunto di italiano. Sempre un'ultima dettaglio insomma che non è un dettaglio molto importante. I testi vengono creati sulla base di modelli di alta valenza letteraria perché quello che insomma è importante ricordare che quello che portiamo in classe a primaria sono sempre anche dei modelli molto molto validi, ben strutturati affinché i nostri alunni e le nostre alunne possano emulare e partire da testi di alto valore. E la bibliografia ovviamente oltre ai riferimenti teorici e normativi contiene anche riferimenti della letteratura per l'infanzia che sono appunto utili per approcciare le attività. Ho finito, grazie. Esco dalla parte. Grazie a voi. Grazie Margherita. Passiamo la parola a Federica. Grazie a voi. Eccomi per presentare questo libro. La prima cosa che mi preme di dire è che nasce dall'esigenza di ricollocare alcune risorse fondamentali della lingua dei maestri e delle maestre al centro dell'educazione linguistica come educazione to cure. Cioè vorrei dire che se non ci prendiamo cura della lingua dei bambini, noi non ci prendiamo cura né dei bambini né degli adulti che saranno. Dunque diciamo che il cuore di questo lavoro, che è frutto di molti anni di collaborazioni con le scuole, di sperimentazioni universitarie, è la consapevolezza dell'importanza di poter dare la libertà di e della parola ai bambini. E questo a cominciare dalla parola dei maestri. Il primo passo è dedicato alla parola, alla parola scritta, allo scrivere in educazione, dove però la scrittura è posta come un valore organico, un processo, mai un prodotto, un'occasione di toccare il mondo ma anche di essere toccati dal mondo. Vicino alla scrittura dei maestri troverete un capitolo dedicato, un paragrafo dedicato alla scrittura dei bambini e a come il processo di scrittura infantile si forma e in qualche modo si coagula sulla pagina, lasciando delle volte mai del tutto la matrice orale da cui nasce. Un paragrafo è anche dedicato alla letteratura per l'infanzia, in un aspetto che penso sia fondamentale, centrale, che è quello che ha la letteratura per l'infanzia, di partire, di mettere al centro proprio la verità della lingua infantile. In questo suo essere è un connubio inscindibile tra dato cognitivo, dato emozionale e dato percettivo. Dalla lingua scritta, ovviamente passiamo alla lingua letta, avrete così modo di attraversare alcune componenti puramente teoriche della funzione, del senso e del valore del leggere in educazione, per poi approdare a qualcosa di più pratico che riguarda da una parte la voce del lettore, quindi tutto ciò che anche da un punto di vista pratico può essere fatto per potenziare la funzione e il valore, il senso della voce di chi educa all'interno della lettura voce alta. È una parte dedicata naturalmente alla voce del testo, anche qui praticamente potrete vedere alcune componenti tecniche del testo. Qui c'è dentro quest'analisi della voce del testo anche un'idea di letteratura, un'idea di letteratura che negli anni ho trovato poco da un punto di vista di didattica della letteratura a scuola. È un'idea lontana sia dalla storia della letteratura sia da come funziona un testo letterario, quindi lo smonto e ti faccio vedere il testo e le sue componenti. Qui c'è l'idea di letteratura che ovviamente è profondamente unita all'idea della lettura ad alta voce come canto, come avventura, come possibilità di dire dove sono io, in quale punto del mondo e di farti partecipe di questo sentimento nel momento in cui poi appunto ti porto la letteratura, che per me è questa cosa qui, in classe. Ecco, vorrei sottolineare che, l'ho fatto anche nel libro, anche se troverete aspetti tecnici legati sia alla voce che al testo, la somma di tutti questi aspetti non porta a una tecnica per imparare. Tuttavia spero profondamente di poter aver creato una sorta di clima della postura dell'educatore per arrivare a considerare la lettura ad alta voce come un campo d'azione educativo, credo il più forte che io abbia mai incontrato per costruire e nutrire la relazione educativa. Cioè non c'è una comunicazione didattica altrettanto efficace come la lettura ad alta voce per entrare in relazione educativa col bambino. Tutta la parte finale del libro è dedicata a dei percorsi di scrittura. Uno alla poesia, gli ultimi tre, quattro in tutto alla prosa. Quindi sono dei percorsi costruiti a grappolo, mi viene da chiamarli così. ognuno è composto da più laboratori che poi i maestri e le maestre possono anche decidere di fare singolarmente, ma tutti i percorsi sono concepiti come dei movimenti, delle sinfonie, note che si costruiscono in una sinfonia fatta di più elementi. Questo in particolare, che mi sta particolarmente a cuore, che sto continuando a portare avanti con diverse letture, anche con i ragazzi più grandi, è dedicata a quella zona della lingua che è la lingua sommersa, cioè non è che non esiste il pensiero, c'è il pensiero, c'è la parola attaccata al pensiero, ma non c'è la voce attaccata alla parola. Quindi tutti quei momenti della nostra comunicazione, della nostra vita linguistica, in cui sapremo anche cosa dire. però o ci manca il coraggio, o siamo in un momento di attesa e quindi ci prendiamo cura di una parola che ancora non è matura per essere investito dalla voce, oppure semplicemente leggendo, stavo pensando di Stoddard, è il momento di una parola ancora quasi dormiente perché è il momento in cui ci stiamo svegliando e quindi non parliamo, però la testa è piena di movimenti, immaginazioni e desideri. Le prime due letture vi ho portato solo così pochissimi esempi, leggendo nel silenzio signore e signore, che poi voi potete trovare nel libro, c'è un'ipotesi di lettura di questa poesia di Piumini, leggendo questa poesia i bambini creano dei pentagrammi dove ricostruiscono i rumori delle loro case e invece leggendo stavo pensando che il suo bambino di terza elementare ha scritto una sorta di sinfonia fatta di un polisindeto, sentite che roba, io sento che il mio gatto fa miau e il gallo mi sveglia e la mia mamma che fa il caffè e il mio babbo che fa per me il cacao e la mia mamma mi viene a svegliare e il mio gatto va a mangiare e la mia mamma mi porta a scuola e poi vado dalla nonna. C'è una chiusura in due versi, insomma in due righe, passiamo da casa a scuola e alla nonna. Mentre queste due, ecco questa è la bibliografia, l'avete vista, queste due sono piccole sperimentazioni di scrittura nate dalla lettura ad alta voce di Un grande giorno di niente di Beatrice Alemagna e di come andò che Eugenio Di Fatti divenne musicista. Un grande giorno di niente è la storia di un bambino che scopre dopo aver perso un gioco elettronico il mondo, quindi tra incontri di uccellini, funghi, giganti, lumache, ritorna a casa e vorrebbe raccontare tutto a sua mamma, però questo momento di silenzio che vedete nell'immagine è un momento talmente pieno di significati e di pensieri che non solo non sono vestiti di parole, scusate, di voce, ma se lo fossero perderebbero di rilevanza che il bambino decide di non parlare, di non dire. Dopo la lettura di questo albo e dopo aver fatto altre, quelle che avete già visto, sperimentazioni sulla mancanza di voce, i bambini hanno scritto i momenti in cui sono legati, quindi entrano in relazione con l'altro, non attraverso la voce, ma attraverso la difesa del silenzio. Io e la mia mamma, quando io finisco i compiti, io e la mia mamma, ci mettiamo sdraiati nel divano e dopo un po' la mamma si addormenta. E a me piace molto questo silenzio, che penso sia un momento di verità, questo silenzio condiviso. Di là c'è l'attesa, che è un'altra sfaccettatura del silenzio, quindi il silenzio quando si aspetta qualcosa. L'albo racconta di un bambino che suona il carinetto, poi alla prima esperienza, diciamo, performativa, questo carinetto gli casca di mano, si rompe e non ha più il coraggio di suonare. E suo papà di settimana in settimana gli regala sempre uno strumento nuovo, finché il bambino, vedete che il babbo non si arrende, aspetta, 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 finché il bambino torna a suo primo amore, il clarinetto, e finalmente riesce a tornare a suonare. Qui il bambino di quarta che ci ha lavorato, ha lavorato a questo tipo di attesa. La mia mamma ormai non può più fare dei bambini, ma per fortuna la mia zia aspetta di aspettare un bambino o una bambina. Ovviamente c'è l'attesa, ma comunque è in dolce attesa, però è vero anche che c'è l'attesa di essere in dolce attesa. Ecco, questa è, credo, una delle forme più ricche di ascolto della parola dei bambini. Quando i bambini stessi riescono a cogliere aspetti del reale che sono intimamente, ovviamente, legati ad aspetti della nostra lingua. E qui la riflessione linguistica è, diciamo, incentrata su qualche cosa che è un'esperienza che viene dai bambini e che viene tradotta in forma di parole. Tra l'altro questo movimento, cioè questo parlare della non parola, diciamo così, cioè parlare di una parola che non ha voce, è una, diciamo, una sperimentazione che sto continuando proprio perché mi dà modo, mi ha dato modo anche quei ragazzi più grandi di creare un movimento di riflessione linguistica profondamente introspettivo e nello stesso tempo profondamente legato alla relazione con l'altra. Cioè è nel silenzio che cuciamo le parole più significative, quelle che magari aspettiamo di dire e poi di consegnare all'altro. Grazie, io ho finito. Grazie. Allora, grazie, veramente siete state bravissime, precisissime, anche con i tempi. Allora, al momento non ci sono domande nella chat, ma io so che ci sono domande nelle teste di chi ci sta seguendo, perché ogni volta che si propone un'attività didattica da fare in classe, la domanda che puntuale arriva e che io immagino che stia viaggiando un po' nella mente di chi ci segue è, ma come facciamo con il tempo? Cioè spesso gli insegnanti vedono queste belle attività e poi dicono, però noi non abbiamo tempo, come facciamo con il tempo? E quindi questa è una domanda che faccio io, penso per conto di qualcuno, perché è stata fatta a me molte volte quando ho presentato delle attività o quando ho presentato altri volumi. E quindi la giro a voi. questo problema del tempo, come gestire il tempo e quanto tempo dedicare a questo tipo di attività, nel caso di Monica e di Margherita, perché voi come vi organizzate in classe, nel caso di Federica, perché vale la pena utilizzare questo tempo, quali tesori poi si raccolgono da un tempo utilizzato così. Grazie. Direi che partiamo con l'ordine Monica, Margherita, Federica. Eccomi. Dunque, la didattica che presenta il mio percorso vuole veramente focalizzare il tempo sulle questioni più importanti, sulle competenze più importanti. A volte capita nei percorsi più diffusi, nella didattica più diffusa, di essere piuttosto dispersivi e andando quindi a vanificare a volte le energie dei bambini. Anche perché, nel caso dell'ambito di cui mi sono occupata io, bisogna stare attenti a un bambino di oggi che è preso da stimoli continui nella quotidianità e che quindi forse noi dobbiamo andare davvero a porre l'attenzione con obiettivi molto precisi e credere in questi obiettivi. per cui ciò che noi andiamo a proporre ha un fine ben preciso e il percorso deve portare a quel fine. Il tempo, alla fine, diciamo che va davvero a concentrare l'attenzione del bambino sulla competenza che deve andare a sviluppare. Quindi è molto importante essere focalizzati su ciò che vogliamo andare a raggiungere. Grazie Monica, Margherita? Sì, allora, un po' come ho accennato durante la presentazione e tra le varie cose, che ho detto è che appunto questa è una modalità comunque di lavoro che non porta via tempo, parlando proprio di tempo anche nella programmazione didattica quotidiana, e non porta via opportunità, occasioni e tempo stesso alle altre attività. Attraverso il percorso di ludolinguistica noi comunque facciamo grammatica, facciamo sintassi, facciamo ampliamento lessicale e quindi è anche un po' per quello che ho citato a proposito dei materiali online, la corrispondenza con le indicazioni nazionali. per avere un ulteriore ancoraggio al fatto che facciamo didattica dell'italiano, facendo ludolinguistica, non facciamo niente di diverso, semplicemente scegliamo un percorso. Inoltre mi permetto di spessare una lancia anche a favore della metodologia laboratoriale che poi è comune anche alle altre attività perché si raggiungono altri risultati che sono quelli dati dal confronto tra pari. Dal confronto tra pari, una nuova competenza che nasce dalle competenze singole che il gruppo mette in comune, mette in moto, una nuova competenza anche strategica. Mettiamo in atto e studiamo e abbiamo dei risultati non solo dal punto di vista dei contenuti e delle nozioni che sono importanti ma anche dal punto di vista delle strategie. Una delle parole chiave è un pensiero divergente proprio perché il pensiero divergente è quello che ci permette di affinare anche il problem solving, sapere superare l'ostacolo attraverso tutte le scritture a vincolo e quindi raggiungere degli obiettivi oltre a quelli dei contenuti proprio della didattica dell'italiano sia dal punto di vista sintattico, classicale, eccetera, raggiungere anche altri obiettivi, mi verrebbe da dire strategici che sono anche trasversali ad altre discipline, alla scuola tutta. Benissimo, grazie. Federica? Io per quanto riguarda il tempo, come dico sempre le mie maestre, non è che devono stravolgere il loro terreno, territorio, le cose già decise, eccetera. Tuttavia, il punto di vista con cui si lavora la lingua proposta in questo libro qua è un punto di vista che cambia la postura dell'educatore rispetto all'educazione linguistica, come ho detto prima, come educazione to cure. Quindi, non è che si cambia poi tanto il livello di tempo, ma si cambia lo sguardo rispetto al bambino, si cambia quindi anche delle volte i tempi in senso stretto, perché se un bambino non lavora in un determinato tempo non significa che il tempo si esaurisce, è finito. Cioè, è un tempo anche lungo, che io dico, se tutti i cinque anni bisogna prenderli tutti, perché è un tempo progettuale che tu devi vedere il bambino quando arriva, che ancora non sa scrivere, hai cinque anni di tempo per costruire, per nutrire e per prenderti cura dell'identità linguistica. E in questa identità non è possibile che non esistano i tempi dedicate alla libertà della scrittura, esattamente come la libertà del disegno. Cioè, come ai bambini si deve dare per cinque anni la possibilità di creare e fare disegno libero, perché è assolutamente necessario che il bambino si riappropri dell'uso della mano che non lo perda, soprattutto perché quando arriva ce l'ha, logicamente. Allo stesso modo nell'educazione linguistica bisogna tutelare quella che è la spontaneità dell'espressione perché è lì che si annida la motivazione e la fiducia in sé e senza quelle non si va da nessuna parte. Grazie. Infatti una cosa che volevo sottolineare anch'io era proprio che hai detto tu Federica e che è comune a questi libri e spero anche a quelli che ci saranno è la questione dello sguardo dell'insegnante e anche questo si tiene tra tutti i vostri tre tra le vostre tre proposte. L'insegnante osserva in tutti i casi quindi sia nel primo apprendimento sia nel gioco linguistico sia nel rapporto con queste scritture più libere e nell'ascolto del libro letto ad alta voce ha uno sguardo particolare in questa osservazione che è un'osservazione per capire per comprendere e per modificare eventualmente la sua azione didattica e quindi a uno sguardo direi che non vuole dare un giudizio o una valutazione intesa in un senso diciamo tradizionalista ma vuole cercare le cause e le motivazioni. Mi piace ricordare che nel libro di Federica ci sono più momenti in cui si racconta che dei bambini che non avevano abitudine a scrivere che erano bloccati nella scrittura all'interno di questi laboratori finalmente trovano una strada per esprimersi. È un'esperienza che ho provato anch'io quella di avere un alunno che rifiutava sia il disegno appunto come ricordi tu le due cose sono molto vicine il disegno libero e la scrittura e rifiutava sia il disegno che la scrittura e anche lì il tempo è stato un fattore fondamentale cioè lasciargli il tempo di trovare il momento giusto per potersi esprimere in forma scritta e per poter disegnare. Quindi vorrei aggiungere la mia parte è vero che noi dobbiamo avere degli obiettivi sicuramente didattici educativi rispetto ai nostri alunni ma è anche vero che dobbiamo lasciare a loro il tempo di crescere ciascuno secondo i suoi tempi e questo appunto è legato alla scelta alla quale tengo veramente molto di lavorare sempre sul concetto di livelli e non sul concetto di età o di classe che appunto voi avete così ben applicato. Nel frattempo nella chat sono arrivati alcuni complimenti Erna dice affascinante della scrittura dei bambini spontaneità della motivazione davvero preziosa sì penso che siamo tutti d'accordo in questo periodo io sto leggendo un sacco di testi scritti da bambini e ragazzi e trovo delle meraviglie visto che li sto leggendo per motivi di studio e senza nessun obbligo di valutazione me li godo come fossero dei libri di letteratura quindi anche questo è una questione di sguardo che possiamo porre appunto su quello che i bambini producono. Vediamo se c'è qualche altra domanda abbiamo ancora qualche minuto Ah sì una cosa importante riguarda i materiali online che tante volte ci chiedono è come si fa a scaricare questi materiali online perché noi insegnanti siamo abituati nei libri di testo ad avere un codice dentro il libro invece in questi libri della Carocci vale per tutti i libri non c'è nessun codice si può basta registrarsi al sito Carocci e dopodiché a fianco di ogni libro voi trovate il link a materiali online e li potete scaricare quindi non serve collegarsi al singolo libro ma una volta che siete registrati sul sito voi potete accedere a tutti i materiali online dei diversi libri ecco volevo chiarire questo vediamo se qualcuno si fa coraggio oppure se vogliono dire qualcosa Elena e Cristiana che sono con noi allora faccio ancora una specificazione tranne il libro di Monica che sicuramente è tratto sul primo apprendimento proprio della scrittura gli altri due presentano delle attività molte attività sono anche utilizzabili nelle scuole secondarie di primo grado quindi sono in qualche modo portano a questa verticalità quindi non sono concentrati solo sulla primaria bene io direi che non avrei altro da aggiungere se volete aggiungere qualcosa a voi no io posso aggiungere però però l'ho vissuta in prima media non alla primaria sempre su questa cosa del silenzio perché vengono fuori cose interessantissime e praticamente sto ragazzino ha vissuto il silenzio e ancora lo sta vivendo perché ha preso una nota da una settimana e non l'ha detto a casa e allora il compagno gli ha detto come non l'hai detto io mi libero subito appena faccio qualcosa non arrivo a casa e lo dico e dopo l'ho guardato e diceva forse lui ha senso di colpa perché se tu per primo giudichi grave quello che hai fatto aspetti bene perché devi maturare la parola che da maturo che sei vai a dare all'altro maturo che è l'adulto e lui mi ha guardato che come se gli avessi messo davanti concretizzato qualcosa che lui sentiva cioè voglio dire l'educazione linguistica non è molto diverso da questo chiamare le cose col proprio nome e quindi poi farle vedere agli altri una parte essenziale del lavoro che non ho detto è la pubblicazione cioè è leggere a voce alta quello che i bambini scrivono perché poi è dai bambini che vengono fuori sempre ovviamente l'educatore riesce a restituire la bellezza la complessità del testo è dai bambini che vengono le strade più impervie originali e ricche di significato da condividere col gruppo classico come dicevi prima cioè è lì che si crea la comunità linguistica è fatta da più voci è lì che si distingue l'uno dall'altro per esempio quello non lo dice vuol dire che ancora non è così maturo da provare la vergogna perché lì è la vergogna che tu provi e la vergogna è un sentimento nobilissimo perché solo l'uomo e le persone per bene possono arrivare a provare chi non ha vergogna guarda fuggi pure da chi non ha vergogna quindi è come dire uno scarto che quel bambino ha sentito sudissimo ragazzino prima media che ha fatto nascere poi in classe altre parole ecco questa è diciamo un consenso molto ricco e costruttivo per fare vera educazione linguistica e per essere educatori grazie nel frattempo c'è una domanda nella chat la correzione dei testi in scrittura libera come avviene di spettatore anonimo e qui siamo coinvolte in più persone e cominciamo da Margherita poi Federica va bene comincio io allora Veronica la correzione avviene allora innanzitutto mi collego anche un po' a quello che ha appena detto Federica e poi passo alla risposta della domanda anche nelle attività di ludolinguistica la condivisione è una una parte molto importante la condivisione dei propri elaborati la lettura a voce alta e fa parte proprio anche del percorso di motivazione di 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 condivisione dell'esercizio che stiamo facendo e qui mi collego anche alla parte della correzione e della valutazione che immagino sia un concetto sotteso no alla domanda innanzitutto nel percorso che intraprendiamo con l'udolinguistica ma anche no non tutto va va tutto corretto ma non tutto poi va sottoposto a valutazione noi dobbiamo pensare di dover sottoporre valutazione qualsiasi scritto diciamo qualsiasi elaborato prodotto dai nostri alunni dalle nostre alunne ci sono elaborati che valutiamo e correggiamo anche in base a quello che sono stati per quanto mi riguarda nelle nostre attività di ludolinguistica cerco di promuovere quanto più possibile la consapevolezza dell'errore quindi l'autocorrezione e da lì anche un'autovalutazione una una cosa che non è potuta emergere insomma anche per le tempistiche della presentazione ecco ovviamente l'insegnante in questo caso è regista e facilitatore di stimoli e conduttore diciamo delle attività che vengono sempre prima presentate e svolte in gruppo in grande gruppo cioè sotto la con la classe intera poi eventualmente sviscerate sviluppate in piccolo gruppo e se l'insegnante lo ritiene necessario individualmente allora a quel punto la correzione ha anche più senso la correzione delle modalità messe in atto nello scritto ha anche più senso perché c'è stato tutto l'apprendistato precedente no? e poi ovviamente insomma la correzione a livello ortografico o sintattico certo perché comunque stiamo facendo come si diceva all'inizio sulla questione del tempo stiamo facendo educazione alla lingua stiamo facendo didattica dell'italiano quindi su alcuni punti cardine ci comportiamo come ci comportiamo in altre occasioni però è molto importante più che altro è lo sguardo dell'insegnante che cosa stiamo promuovendo in quel momento cerchiamo di promuovere l'autocorrezione l'autovalutazione e il partire sempre da ciò che di positivo ciascuno fa ciascuno porta anche per migliorare quello che ancora resta da fare ecco Federica per quanto mi riguarda la prima cosa che posso dire sulla correzione è per esempio i bambini in prima in seconda in terza correggere il lessico non è mai una strada maestra quindi bisognerebbe fare dei distingui adesso se si parla proprio di perché sai ci sono tanti tipi di correzione che si possono agire quindi se uno va a correggere un lessico perché è definito improprio bisogna capire qual è l'intenzione significativa cioè del dare significato da parte del bambino io penso che il 99,9% delle volte ha ragione il bambino e il testo non va toccato da un punto di vista più squisitamente grammaticale o sintattico quindi non so per esempio l'ortografia io faccio così io quando lavoro e loro sono liberi è fondamentale che io e quindi anche la maestra non agisca nella fase di creazione alla fase diciamo di elaborazione della scrittura e poi di formalizzazione della scrittura quindi il pensiero diventa sintassi va giù in modo libero se io comincio a dire eh no qui dovevi far così eh no qui è sbagliato io praticamente è come se lo faccio andare a destra e poi immediatamente il bambino lo prendo e giro la faccia e lo faccio guardare a sinistra perché in quel momento lì il bambino è assolutamente concentrato su un altro tipo di lavoro che è immaginativo cognitivo e di memoria soprattutto la memoria episodica cioè vengono praticamente eh smottate delle risorse ed è concentrato lì anzi i bambini più competenti quando fanno questo lavoro qui più competenti in senso stretto anche a livello ortografico fanno più errori di quelli che comunemente il maestro giudica come i meno forti dal lato formale perché è come una difesa che viene meno perché non c'è il lato prestazionale della scrittura però ripeto abbiamo cinque anni e quindi nei cinque anni la scrittura libera dove fioriscono più errori perché in quel momento la motivazione guarda da un'altra parte il maestro prende appunti vede quali sono gli errori più ripetuti poi si fa esercizio in palestra però ecco per correre io lascio sempre più libertà fino ad arrivare in quinta dove magari se si è lavorato bene quattro anni il bambino può anche fare autocorrezione sia da un punto di vista ortografico sia magari da un punto di vista lessicale da un punto sintattico come puoi dire per dire meglio quello che volevi ma quella è una consapevolezza che va nutrita con la fiducia in sé con la capacità di trovare la parola dentro il pensiero il pensiero dentro la parola e lì io devo lasciare la libertà ai bambini perché se non lascio libertà quella consapevolezza non nasce quindi diciamo che è uno slalom è come un percorso molto complesso che però poi alla fine se uno ce l'ha nella testa non è così non è così difficile è difficile se uno ha un'impostazione magari dove la spontaneità non c'è c'è solo l'esercizio in palestra allora è chiaro che il bambino non è mai libero di scrivere cioè scrive liberamente finché il maestro arriva e dice chi è sbagliato chi è sbagliato chi è sbagliato e non è più libero invece bisogna creare una sinergia io penso una nuova sinergia perché sai qual è il problema è che quando i ragazzi smettono di andare a scuola smettono di scrivere smettono di leggere e invece noi che siamo i primi quelli che mettono le radici se noi lavoriamo bene nella radice l'essere umano deve capire che la lingua è tutto quello che ha per vivere bene cioè tutto quello che abbiamo per vivere bene è la lingua non per fare i prof non per andare all'università ma per vivere bene quindi la scrittura mi appartiene non può essere solo una scrittura scolastica la lettura mi appartiene il capire i testi mi appartiene nella vita non nella scuola quindi bisogna necessariamente creare un'educazione linguistica che sia educazione in senso totale certo e quindi la correzione Enrica dice un esempio di correzione impropria sarebbe correggere il bambino che parla dell'attesa di attendere da parte della zia giusto sicuramente secondo me la classica ripetizione esatto quindi dici ma cos'è e invece se tu pensi dici ma che roba meravigliosa quante mamme fanno fatica ad arrivare alla dolce attesa cioè quanto è più tremendamente drammatica l'attesa dell'attesa rispetto alla dolce è infatti attesa quindi effettivamente infatti lui l'aspetta perché sa che la mamma i fratelli e le sorelle non li darà più quindi lui sta aspettando l'attesa della zia che è straordinario ma è anche un problema reale che molti molti vivono cioè non è che non è una cosa sua del bambino è questa la mia figlia e di nuovo io sto lavorando sulla correzione quindi mi sento un po' chiamata in causa da questa domanda sulla correzione che però collegherei a quanto abbiamo detto fino ad ora cioè la questione del tempo che noi lasciamo a disposizione dei bambini per apprendere una determinata caratteristica della scrittura perché che si tratta di sintasti di ortografia e soprattutto della dimensione testuale che è così difficile per i bambini e per i ragazzi anche delle scuole secondarie da gestire così come la parte della revisione quindi su questo dovremmo fare una grande riflessione cioè quanto tempo lasciamo finché quanto tempo concediamo perché raggiungano quell'obiettivo e secondo me dovremmo concederne parecchio e soprattutto dovremmo anche lì in correzione della proposta che farò quando toccherà a me scrivere di nuovo e di anche lì ragionare per livelli cioè ci sono dei livelli successivi di apprendimento sulle diverse competenze che riguardano la scrittura e noi dobbiamo capire ogni bambino che livello si trova e qual è la tappa successiva che può affrontare ogni singolo bambino che quindi ragionare invece in termini di un modello medio e standard al quale si devono adeguare tutti quanti ci porta ad avere gran parte delle difficoltà che abbiamo nella correzione se noi come prima cosa quando leggiamo un testo lo ascoltiamo lo leggiamo gustandolo e cercando di capire quali sono appunto i punti di forza come ha detto Margherita a partire dal positivo e assieme al bambino cerchiamo come ha detto Federica di ragionare come questo testo può essere migliorabile e come dicono i francesi il testo diventa una collaborazione tra insegnante e allievo non si tratta di una lotta a suon di penna rossa e di valutazioni che appunto non sempre devono essere legati alla correzione dei testi ma diventa una collaborazione un dialogo per giungere al risultato al testo che meglio esprime il pensiero del bambino con le parole che lui ha scelto e con le parole che al contempo sono più efficaci per comunicare quindi questo sarebbe la mia piccola risposta a questo ci continuo a ringraziarci concordo in pieno grazie ai vostri interventi e grazie per questi contenuti illuminati grazie a voi di essere intervenuti così numerosi adesso noi vi salutiamo e quindi speriamo di rivederci presto con altre con altre iniziative grazie a Federica Margherita Monica e di nuovo grazie al comitato scientifico Elena e Cristiana che sono qui e a Elena Bortolotti che non c'è grazie grazie ancora a Carocci che ci ha ospitati e ci ha dato fiducia insomma ha dato fiducia al nostro progetto a tutti quanti noi e quindi buona lettura e buon lavoro a tutte le persone che ci ascoltano grazie grazie a tutti buona serata grazie grazie mille grazie buona serata grazie a tutti